topotipo topotipo dimmi dimmi topotipo è vero che è l'ultima puntata di questo libro e come faremo poi io voglio sentirti leggere stai tranquillo stai tranquillo non ci sono problemi leggeremo ancora insieme e voi mi raccomando bambini state ancora un po a casa abbiate ancora un po di pazienza che poi inizieremo ad andare in giro a correre a giocare e tutto sarà ancora più bello nel frattempo io cercherò di raccontarvi tante altre storie ok profumo di parmigiano tornai in città tornai a topazia come prima cosa andai in casa editrice entrato nell'ufficio dell'amministrazione trovai un topino con gli occhiali che dimostrava più o meno 14 anni seduto con aria solenne a una scrivania pensai che fosse un amico di pinky ciao che ci fai qui chiesi cordiale lui squittì buongiorno dottor stilton il mio nome è eu premium finance avrei giusto due o tre precisazioni da chiederle riguardo la sua posizione fiscale io sbarrai gli occhi incredulo cosa 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 pinky lei arrivò fulminia lei chiesi preoccupato spero proprio di aver capito male non dirmi che è questo il consulente finanziario globale lei mi fece un sorrisetto soddisfatto hai capito bene capo questo è un consulente globale nel senso che si occupa di tutto dell'amministrazione della tua dichiarazione dei redditi e dei tuoi investimenti in borsa che mal di mare che mal di mare io svenni pinky mi rianimò con dei sali al profumo di parmigiano mormorai ditemi che sto sognando ditemi che questo è un incubo l'incubo peggiore che un editore possa immaginare appena esaminai la contabilità però campi a idea mi accorsi che eu premium finance era un piccolo genio pensate che aveva investito a colpo sicuro tutto il mio patrimonio in azioni di una nuova società che vendeva formaggi via internet mi aveva fatto guadagnare oltre il 30 per cento dell'investimento scusate il 300 per cento pinky sussurrò ti consiglio di assumerlo subito capo prima che ci pensi qualcun altro per esempio sally da smausen a proposito di sally appena uscita dall'ospedale non aveva perso tempo e aveva fondato una nuova gazzetta guardai fuori dalla finestra e sospirai in via del tortellino 14 i lavori per riedificare la gazzetta procedevano spediti per risparmiare però anziché assumere dei muratori sally aveva costretto i suoi stessi dipendenti a lavorare come schiavi per ricostruire l'edificio a stipendi da fame e ritmi di lavoro da incubo io adoro il formaggio anche io anche io anche io anche io strinsi la zampa è un premio finanze mi congratulai con lui lasciata l'amministrazione finalmente mi diressi verso il mio ufficio entrai e vi di topia seduto alla mia scrivania strillava ordini nel mio telefono alla mia segretaria e la stilton mentre era via io ho scritto e pubblicato semiotica protozoica di metamorfosi topoidale ovvero cosmogonia criptica della stipsi ma che titolo è non ci capisco niente protestai lui continua in imperterrito ho anche pubblicato un manuale come allevare un gatto razze abitudini alimentazione continua lui soddisfatto ma quale roditore interessa allevare un gatto gridai strappandomi baffi dalla rabbia lui scortò una caramellina al caffè proseguì ho in mente un altro titolo eccezionale autobiografia di un genio la storia della mia vita è contento stilton è contento ha proprio ragione il proverbio quando il capo non c'è i topi ballano mi consolai pensando che c'erano tanti altri lavori interessanti oltre a quello dell'editore per esempio l'assaggiatore di formaggio io adoro il formaggio volete sapere come è finita sono passati sei mesi io naturalmente ho continuato a fare l'editore la gazzetta naturalmente ha ricominciato a fare la guerra all'eco del reditore tutto insomma è ritornato come prima o quasi volete sapere la novità il misterioso manoscritto di nostra topus ha avuto un successo eccezionale è già primo nella classifica dei libri più venduti qui a topazia a proposito è il libro che state leggendo voi adesso vi piace spero di sì vi confesso un segreto che rimanga tra noi però sto già pensando al prossimo libro vi dico solo che parlerà di piramidi di antiche civiltà scomparse di atantide changrilà eldorado mi sto già documentando e non vedo l'ora di iniziare a scriverlo allora cari amici roditori arrivederci al prossimo libro un libro stilton naturalmente squit che bello che bello che bello grazie topotippo per questa storia che ci hai raccontato niente ragazzi adesso corriamo subito a fare la pappa e poi si deciderà l'altro libro da leggere ciao bimbi ciao bimbi ciao 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 ciao